Apriamo la pagina del comprensorio con Santa Marinella, è scattato questa mattina attorno alle 7 un maxi blitz dei carabinieri nell'ex casa cantoniera dell'ANAS a Santa Marinella, appunto lungo l'Aurelia, nella zona sud della città. Sgomberati una decina di extracomunitari che da tempo stazionavano all'interno della struttura abbandonata. Dopo una serie di proteste da parte dei residenti che giornalmente notavano un continuo via vai di persone straniere che entravano e uscivano dallo stabile a qualsiasi ora del giorno e della notte, l'ARMA ha deciso di intervenire e dopo una serie di appostamenti e di controlli sono intervenuti. Circa 15 carabinieri che, diretti dal Maggiore Ceccarelli e coadiuvati dal comandante della caserma di Santa Marinella, Roberto Bernardini, dopo aver circondato lo stabile, hanno fatto eruzione nella struttura. All'interno sono stati trovati 10 pregiudicati senza fissa di mora e di diverse nazionalità. I carabinieri hanno scoperto che il gruppo utilizzava la rete elettrica pubblica. I 10 sono stati denunciati a piede libero. Subito dopo lo sfratto, gli operai dell'ANAS hanno provveduto a chiudere il portone e a murare le finestre, mentre l'ANEL ha ripristinato la rete elettrica eliminando il cavo che portava l'elettricità nella casa cantoniera. Sarà l'autopsia a stabilire qual è stato il colpo di coltello che ha ucciso la giovane romena a lunedì sera, vittima di un raptus di gelosia del marito che le ha tolto la vita. Sentiamo il servizio. Sarà l'autopsia a decidere quale colpo ha ucciso la povera Mirella, la 25enne romena assassinata lunedì sera dal marito Vasile Calugarec dopo una violenta lite sfociata nel dramma. Il pubblico ministero Lorenzo del Giudice ha infatti chiesto l'esame autoptico sul corpo della ragazza conferendo l'incarica ad un medico legale che svolgerà l'esame presso l'Istituto di Medicina Legale del Verano a Roma. Due i colpi inferti con un coltello a serramanico che potrebbero aver ucciso la donna, ovvero quello appena sotto la scapola ma più probabilmente quello alla gola che dovrebbe aver reciso la giugulare. Su quest'ultimo in particolare gli inquirenti sospettano che l'uomo possa aver raggiunto la donna dopo averla colpita più volte alla schiena, l'abbia afferrata e tenuta stretta a sé e poi con la lama, abbia affondato all'altezza della gola facendola scorrere da destra a sinistra per pochi centimetri, sufficienti però a togliere la vita. Il PM sta praticamente svolgendo le indagini come se il 34enne rumeno non avesse confessato. Questo per evitare che se in sede di nuovi interrogatori o su suggerimento del proprio legale, l'uomo possa ritrattare la sua confessione, avrebbe comunque in mano le prove della sua colpevolezza. Ipotesi che però sembra poco probabile dopo che lo stesso Calugarec ha lui stesso chiamato i carabinieri, dicendo da subito di essere l'autore dell'omicidio, accompagnandoli sul luogo del delitto, aiutandoli a ritrovare l'arma ed ammettendo la propria responsabilità. Confessione poi ribadita anche di fronte allo stesso sostituto procuratore del giudice che lo ha voluto sentire la sera stessa dell'omicidio. Gli inquirenti intanto hanno ricostruito l'intera scena. La donna, appena tornata dal lavoro, lavorava presso un campo agricolo nelle vicinanze, è stata subito aggredita, prima verbalmente, dall'uomo che contestava una relazione extraconiugale con un uomo di Ladispoli, avendo trovato degli sms sul telefonino. Gli inquirenti hanno anche sentito questa persona di Ladispoli, che a quanto pare avrebbe ammesso di aver avuto un'amicizia particolare con la ragazza. La lite poi sarebbe degenerata, ma il tutto sarebbe avvenuto all'esterno della roulotte, dunque lontano dagli occhi del figlio di 5 anni, che non avrebbe assistito alla scena e non sarebbe minimamente intervenuto per dividere i genitori. Il bimbo affidato ai servizi sociali avrà comunque la tutela direttamente del sindaco Alessio Pascucci. E cambiamo decisamente argomento, Tares, polemica politica a Tarquinia. La gran parte della maggioranza ha disertato la riunione della Commissione Consigliare, bilancio e programmazione economica, avente all'ordine del giorno la discussione per l'approvazione del regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e per l'approvazione delle tariffe. I gruppi consiglieri d'opposizione, Terzo Polo, PDL e UDC puntano il dito contro l'amministrazione. Ancora una volta, tuonano dal centro-destra, ci troviamo a constatare un atteggiamento dispotico del sindaco Mauro Mazzola, stavolta forse rimproverato dalla sua stessa maggioranza. Con grande stupore di noi consiglieri di minoranza, spiegano dall'opposizione, abbiamo trovato una riunione semideserta con la quasi totale latitanza della maggioranza. Un'assenza da interpretare come un contrasto forte interno dell'amministrazione si chiedono dal centro-destra. Forse ad incidere saranno state le tariffe ormai schizzate alle stelle, forse perché nonostante i costi elevati, i servizi non vengono garantiti in maniera decente e gli obiettivi prefissati con la differenziata non sono stati raggiunti. Forse perché ancora una volta il sindaco ha deciso in maniera solitaria o comunque con la supervisione dei soliti pochi. Una discarica dietro i binari della stazione di Palidoro a due passi dalla scuola elementare in piena riserva. Lo spettacolo è orribile. La denuncia arriva dal presidente del comitato cittadino di Palidoro che invoca un intervento immediato. Nell'area c'è di tutto, spiega, resti di palme attaccate dal punteruolo rosso, frigoriferi, mobili e diverse batterie. L'amministrazione deve immediatamente transennare la zona, bonificare l'area e installare dei cancelli. Ed ora vi lascio di nuovo un piccolo spazio pubblicitario a seguire lo spot.